Allora, fare questa eseguazione qua, x quadro più 3x più 2 fratto x meno 4 maggiore di zero. Allora, x quadro più 3x più 2 uguale a zero. Perché? Io sto studiando l'equazione uguale a zero. Allora, questa quando si annulla, quando il numeratore è uguale a zero. Basta. Allora, x uguale meno 3 meno più la radice di 9 meno 8 che fa 1 fratto 2, quindi viene meno 2 meno 1. Infatti, x quadro più 3x più 2 è uguale a x più 2 per x più 1. Infatti, x quadro più x più 4x. Quindi, vedete, questo porta la radice meno 1 e questo porta la radice meno 2. Ok. Adesso ho la mia retta. Qua c'è zero. Qua c'è meno 1. Qua c'è meno 2. Come si annulla il denominatore? A4. Quindi la mia funzione, stavolta è ancora, diciamo, lo schema funziona ancora meglio. In questi punti la funzione vale zero. Questa funzione qua. In questo punto la funzione non è definita. Allora, andiamo a prendere... Adesso io ho tre punti, ho diviso... ho diviso... spaccato una mia retta in quattro zone. Due semirette e due intervalli. Andiamo a prendere il punto meno 3. Per esempio, se ci metto meno 3, qua viene meno 7 e quindi viene mega. Qua viene meno 3 al quadrato fa 9. Meno 3 per 3 fa 9. Meno 9. Più 9 fa 0. Più 2 viene positivo. Positivo fratto negativo... Io dico che in tutta questa zona la funzione è negativa. Perché in tutta quella zona la funzione è negativa? Perché se la funzione cambiasse segno, vedremo durante il corso che ci sta un punto in cui essendo una funzione condivina, in cui dovrebbe fare zero. Se la cosa va da negativo a positivo, deve passare zero. Oppure, magari, ci deve essere un punto in cui non è definita. Tipo, c'è un asintoto qua, la funzione è negativa, poi dall'altra parte riparte con un asintoto con valori positivi. Siccome non ci sono in questa zona né punti dove la funzione non è definita né punti dove la funzione vale zero, in questo punto è negativa e in tutti questi punti deve essere negativi. Ma non sono convinto. Vabbè, mettici meno 5. Ci metto meno 5 e qua viene meno 9. Più 25, meno 15, più 2, positivo, positivo, fratto negativo, positivo. Ci metto di un altro, tomo 4, 5 punti e vi convincete. Quindi in tutta quella zona la funzione è negativa. prima. Adesso dobbiamo prendere un punto tra meno 2 e meno 1. E pigliamo meno 3 mezzi. Meno 3 mezzi qua viene negativo, come prima. Qua viene 9 quarti. Meno 9 mezzi fa meno 9 quarti. Meno 9 quarti più 2 fa meno un quarto. Quindi sopra viene negativo. Negativo fratto negativo negativo viene positivo. Quindi in questa zona la funzione è positiva. Adesso tra meno 1 e 4 è facile, basta che ci metto 0. Se ci metto 0, 2 fratto meno 4 viene negativo. E quindi che vuol dire? che la mia funzione qui è di nuovo negativa. E da 4 in poi mettiamoci 5. Ci metto 5 e qua viene 1, positivo. Qua viene tutta roba positiva, quindi è positiva. E quindi stavolta la funzione è positiva. A me cosa interessa? Interessa la zona dove la funzione, la disequazione cosa mi chiede? Dove la funzione è positiva. E qual è questa zona? È x appartenente a meno 2 meno 1 unito x appartenente a 4 da 4 in poi. Se volete scrivere, è x compreso tra meno 2 e meno 1 oppure x maggiore di semirette. Qua è scritto, diciamo, disingue degli intervalli delle semirette e là è scritto la stessa cosa. Chiaro? Quindi questo esempio era più facile. Però se lo dovevo fare con le disequazioni, già ero furbo se lo facevo come rapporto di segno, lui mi faceva il segno di questo. Allora, come lo fate alle superiori? Già va bene se lo fate come... Vabbè, qua c'avete meno 1, meno 2, allora sapete che quella di sopra è positiva per valori esterni all'intervallo delle radici, poi sapete che quella di sotto fino a 4 è negativa, da 4 in poi è positiva e poi dovete fare il segno del rapporto. Allora, più fratto meno fa meno, 0 fratto meno fa 0, meno fratto meno fa più... e quindi vedete che siamo tornati esattamente di quello che abbiamo visto. In questo caso particolare, più o meno il tempo è lo stesso. In questo caso particolare non c'era un grandissimo guadagno. Però, come vedete, lo schema funziona bene. Cioè io non ho dovuto fare i segni dei due polinomi separatamente. Io semplicemente, direttamente faccio il segno di questa funzione. Però cosa devo considerare come i punti che mi possono far cambiare il segno? Devo considerare sia i punti dove la funzione si annulla, sia i punti dove la funzione non è definita. Nell'altro caso, dove la situazione era leggermente più complicata, anche da un punto di vista concettuale, nella pratica era più complicata da un punto di vista dei conti. Ma anche dal punto di vista concettuale era più complicata perché io avevo una disequazione, allora studiavo l'equazione e mi andavo a individuare i punti dove l'equazione era soddisfatta e i punti dove la funzione che deve soddisfare l'equazione non è definita. E quelli sono i punti che possono far cambiare la sequenza. In tutte le zone delimitate da questi punti, o la zona completamente soddisfa la disequazione, oppure del tutto non la soddisfa. Poi naturalmente, se per esempio, qui ci metto invece di mettere maggiore di zero, o uguale a zero, cosa cambia? Cambia che qua ci devo mettere parentesi quadre e che qua invece non cambia niente. Perché? Dovete sempre ragionare, perché qua dovete mettere parentesi quadre? Perché qua la funzione è valente zero. Qua perché non cambia niente? Perché qua la funzione non è zero. Chiaro? Ok. Allora questo è lo schema generale che si applica a tutte le disequazioni. Si va, allora, a tutte le disequazioni che riguardano funzioni continue, ma siccome le funzioni che studiamo noi sono praticamente sempre continue, anche se uno dice, ma la definizione di funzioni continue è stata durante il corso. Vabbè, quello che ti interessa sapere è che le funzioni che usiamo noi, cioè logaritmi, polinomi, funzioni razionali, funzioni trigonometriche, tutte quelle che compariranno durante i precorsi, saranno presenti nel test finale, sono tutte quante. Quindi questo schema si può applicare sempre. Chiaro? Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a richiamare alcune proprietà delle funzioni che avete studiato durante le superiore. quindi proprietà delle potenze, proprietà dei logaritmi, proprietà delle funzioni trigonometriche, alcune, e poi magari vederci anche le disequazioni. Dopodiché, grosso modo, abbiamo finito. C'è una parola, potenze, logaritmi, esponenziali, funzioni trigonometriche, ce n'è da fare. Chiaro? Però, abbiamo ancora due lezioni. Ok? Cominciamo con le potenze. Un quarto d'ora lo voglio fare. Anche perché sennò poi oggi fate qualche esercizio con le potenze e lo fate. Se ne ricorda bene. Allora, quello che voglio fare, in dieci minuti perché non ce l'abbiamo un quarto d'ora, è la definizione di logaritmo. A alla x, all'u. Ma ci mettiamo i numeri che è più facile. 2 alla 3 è uguale a 1. Questa è una potenza. Base, esponente, risultato. 2 alla 3, 2 per 2 per 2, 4. 2 alla 10 quanto fa? Allora, se uno si vuole scrivere a ingegneria informatica e non sa che 2 alla 10 fa 1024, l'altro è meglio che va a fare altro mestiere. Cambiarsi ingegnerino. 2 alla 10 fa circa 1000, quindi 2 alla 20? Per avere circa 2000 quanto fa? 2 alla? 11. Se 2 alla 10 fa 1000, 2 alla 11 fa 2048. 2 alla 20 fa un milione. 1000 per 1000. 2 alla 10 per 2 alla 10. Comunque, quella è già avanzata, quella è tecnologia avanzata. Perché già stiamo applicando le proprietà delle potenze. Qua stiamo ancora nella definizione. Allora, come vedete, la potenza ha due argomenti, base ed esponente. Allora, se io voglio ricavare la base, che devo fare? Io ho 8, voglio ricavare la base. Quindi voglio ricavare 2. Chi è 2? Ma quale è? 8 alla 1 terzo, ovvero la radice cubica di 8. Cioè, quel numero che è elevato al cubo fa 8. Se 2 alla terza fa 8, 8 alla 1 terzo. 8 alla 1 terzo è uguale a 2 alla 3 alla 1 terzo. Ve lo ricordate che A alla B alla C è uguale ad A alla B per C. Ma non perché, per memoria, perché A alla FI alla C, che significa? A alla B per alla FI per alla B per alla B, C oltre. Quindi quante A ci sono? Qua ce ne sono B, qua ce ne sono B, qua ce ne sono B, ripetuto C oltre ce ne sono B per C. e quindi qua viene 2 alla 3 per 1 terzo tra 2. Poi lo riscriviamo per bene. Dunque, quindi quando io voglio fare, voglio ricavare la base, se ho fatto una potenza intera, che era A alla M, A alla N uguale B, A, sono tutti e due numeri positivi, per semplicità, chi è A? B alla? 1 su N, la radice N è di B. Chiaro? Non è che ci vuole un G. Il logaritmo dove interviene? Chi è 3? è il logaritmo in base 2 di 8. Questo però, perché? Perché quella potenza è la potenza alla quale devo elevare 2 per ottenere O. quindi qua, chi è N? è il logaritmo in base A di B. Cioè io per ottenere B devo prendere A lo devo elevare all'I. Questa è la definizione di logaritmo, è la potenza alla quale devo elevare la base per ottenere quello I. chiaro? Quindi quando io voglio fare, ho A alla N uguale B, ho questo risultato, se voglio ottenere la base devo fare una radice, se voglio ottenere l'esponente devo fare un logaritmo. non mi sembra complicatissimo, ricordatevi 2 alla 10 uguale a 1024, 2 alla radice decima di 1024, 10 logaritmo in base 2 è di 1024. Così ti potete scrivere il genetico. Io li voglio i miei studenti, mica non li voglio. Ok. Bene. Ci siamo fino a qui. Quali sono le proprietà delle potenze? Guardate, le proprietà delle potenze valgono per qualunque esponente, per qualunque base, se è tutta roba positiva, valgono sicuramente. Valgono sia se le basi sono intere o non intere, valgono sia se gli esponenti sono intere o non intere. però, se uno se la deve ricordare, magari può avere un momento di obnubilazione della memoria, di cancellazione della memoria. Quindi, se la va a scrivere per un caso, un esempio molto semplice. Per esempio, se io faccio a alla 3 per a alla 2, questo che vuol dire? a per a per a che fa a alla 3, per a per a che fa a alla 2. Quante volte ho moltiplicato a? 5. Fino a contare che sono 5 e non ci arriviamo. Quindi, in generale, a alla m per a alla n fa? a alla m più n. Prodotto di potenze con ugual base di diversi esponenti, si fa la somma degli esponenti. La base diventa uguale. Questa. Se io faccio a alla 3 alla 2, questo è uguale ad a alla 3 per a alla 3, perché sto facendo il quadrato di a alla 3, che per quello che abbiamo detto prima, era a alla 6, 3 più 3. Se qua era a alla c, era 3 più 3 più 3 c volte, cioè 3 c, se invece ci metto mn, alla m, alla n, verrà m più n più m più m più m, n volte, quindi verrà a elevato alla m per n. Queste sono le proprietà delle potenze. Questa e questa. Se sapete questa, sapete le potenze, sapete i logaritmi, no, ho detto male. Se sapete questa, sapete ragionare. Sapete tutto, sui logaritmi e sulla potenza. Per chi? Ancora 2 minuti posso usare. Adesso. se io vado a fare il logaritmo in base a, allora, chiamiamo b uguale a alla m, e c uguale a alla n, chiamiamoli così. Allora, il logaritmo in base a di b, quanto fa? Per definizione, fa m. Il logaritmo in base a di c, per definizione, fa n. Per ottenere c, devo elevare a alla m. Adesso, andiamo a riguardare le due cose che abbiamo scritto nel riguardo. Chi è alla m per alla n? È b per c, sì o no? Allora, il logaritmo in base a, di b per c, quanto fa? No, no, lasciatesta la memoria. Questo fa alla m più n, quindi deve fare m più n. Che però chi sono? Il logaritmo in base a di b, più il logaritmo in base a di c. Noi abbiamo fissato questi due valori per b e per c, eh? Quindi, abbiamo dimostrato che in effetti, questa è effettivamente una dimostrazione, si può almeno, aggiustare in maniera che sia una dimostrazione fatta per bene. Il logaritmo in base a di b per c, quanto fa? Se b è alla m e c è alla m, deve fare il logaritmo in base a di b e il logaritmo in base a di c. ma quindi, questo è vero semplice guardate, perché b sarà sempre alla potenza di a, se b è un numero positivo, sarà sempre alla potenza di a e c sarà sempre alla potenza di a. Se invece, devo fare il logaritmo in base a, chi è questo? Allora, facciamo... di... b alla n, ma b era a alla m, no? Noi sappiamo che deve fare m per n, quindi questo deve essere n per il logaritmo in base a di b, perché m è logaritmo in base a di b, poi n se volete lo potete chiamare g, vale anche se n non è interno, quindi queste sono le due, diciamo, regole che devono rispettare i logaritmi, però le due identità che devono rispettare i logaritmi, ma non è che sono identità diverse, sono rigarie da queste due, cioè se avete dei dubbi, vi ricavate queste e da queste vi ricavate queste, certo, se una... allora, non è che io ignori, cioè non è che ogni volta vi dovete ricavare tutta la matematica che avete fatto fino a quel momento, voi ve la potete pure ricordare, ve la potete ricordare con un... allora io ve la ricordo la formula, a alla m per alla m fa la n più n, ah sì perché 2 alla 3 fa 8, 2 alla 2 fa 4, 8 per 4 fa 32, che 2 alla 5, sta a posto, cioè quando ho il minimo dubbio faccio un rapido controllo, e anche se la formula la conosco da 50 anni, no 50 no, un po' di meno, da 40 anni, la controllo, è chiaro? ok, ok, va bene, ovviamente, una volta che sapete queste, adesso magari andrete e vedrete anche qualche disequazione con i logaritmi, basta applicare lo schema di sopra, poi qualcuna la facciamo anche noi domani, grazie